L'Istat dedica ampie risorse a progetti innovativi e ad azioni efficaci per la promozione della cultura statistica. L'obiettivo è quello di ampliare la diffusione degli strumenti culturali necessari per cogliere pienamente il valore informativo delle statistiche ufficiali. Istat ha aperto un canale podcast su piattaforma Spreaker, un podcast di fiabe statistiche, uno strumento innovativo per avvicinare anche i più piccoli ai dati e fare dei dati stessi un patrimonio comune. Si tratta di otto racconti di fiabe statistiche dal format originale con peculiari caratteristiche tecnologiche e comunicative. La realizzazione del progetto editoriale si è articolata in una serie di fasi operative, dalla definizione dello storytelling, finalizzata alla creazione di una chiara identità editoriale del prodotto, alla definizione del format, con una struttura episodica e chiusa più consona a un podcast. Per la produzione vocale è stato previsto lo speaking a cura delle stesse autrici delle fiabe, con la partecipazione di figlie e figli per rendere più autentica la narrazione. È stato particolarmente curato lo studio del tessuto sonoro per ottenere un'opportuna atmosfera di accompagnamento. Per la distribuzione la scelta è ricaduta sulla piattaforma Spreaker per la sua estrema popolarità fra il pubblico italiano. La diffusione del prodotto è avvenuta nel 2020 nel corso di due eventi di rilevanza nazionale, il maggio dei libri e Statistic Hall, il festival della statistica. I dati di accesso al canale Spreaker evidenziano l'accoglienza da parte del pubblico e l'ampliamento della platea di utenti.